Buongiorno a tutti, sono Luigi Naracoste preferite bentornati e bentornati a questo nuovo video. Oggi affronteremo il Meta Extreme Intersi. Cambio di location per il video con una scala e qua sopra una mia action figure delle varie. Dovremmo essere Santa Sanctorum, via di rifacimento. Team Extreme Int ragazzi, quindi uno dei 3 team della vergogna di questo Meta. Uno dei 3 team della vergogna di questo Meta. Andiamo però ad analizzare come può essere giocabile. Il team da me analizzato sarà la versione che preferisco delle due, quindi WK Buan, Baby Vegeta, Tarles, Vegeta Metal Cooler. Esiste un'altra versione, di cui parlerò sempre dentro di questo video, che è la versione Android. Andiamo adesso ad analizzare pian pianino ogni singolo PG, per vedere i lati positivi se ne hanno. E purtroppo tanti i lati negativi. Partiamo dal leader del team, Kid Bu Int. Il neo god leader, per generare forse il PG di banner che mi è costato meno tono nella storia, trovato in single, nonché leader di questo team. Sulla carta ha la possibilità di essere uno dei PG che fa più danni del gioco. sulla carta. In quanto comunque vanta di un più 180% di stats, di attacco, e ha una recovery abbastanza buona con la special, 12% degli HP totali. Se lo mettevano che si ricaricava in base all'anni che faceva. Era troppo barato. E sia farmabile, ma ha dei difetti abbastanza terrificanti. E non ha un link di chi. E ok, dico spesso che i link di chi non servono più. Perché bene o male ce ne sono alcune basi che sono in ogni team che lo fanno girare. A Kid Bu serviva dei link di chi. Non dico chissà quanti link di chi, ma almeno Fire in Fate glielo avrei dato. O Shocking Speed. Ma va bene, accettiamolo così. Purtroppo non per nulla io reputo questo team il peggiore degli Extreme. Addirittura peggio di Extreme AGL che analizzeremo probabilmente domani. Cos'altro possiamo dire di Kid Bu? Va buildato, addition e evasione. È un team che deve stare sempre molto alto con gli HP per essere davvero buono e avere le sue combo attive. È comunque un PG buono. Portato SA alta fa il suo dovere. SA bassa. Comunque non fa schifo. In tutti i miei video vedete un Kid Buu SA1. E non è malissimo. Adesso penso che post ticket a fine mese salirà almeno SA5. Ho 4 PG da dare ancora. Ne ho 4. Quindi SA5 minimo ci arriva. Vedremo se troverò altri Kid Buu Tech. Sono pieno di Kid Buu Tech. Per aumentare ulteriormente l'SA. Il secondo PG di questo team invece è il sempreverde Buuan. Buuan che perde molta della forza che aveva un tempo. Buuan secondo posto sui PG nei god leader precedenti. Secondo solo a Vegeta GL. Grandissimo debuffer. Grandissimo healer. Grandissimo nuker. faceva tutto da solo. In questo meta giocarlo in monopair si sente quanto ha perso. Si sente tanto, tanto, tanto quanto ha perso. Rischia di non farcela più. Rischia di non farcela più, di non bastare. Su reddito letto di gente che non lo gioca neanche Buuan in questo team. Non vedo come sia pensabile di non giocare Buuan e preferire un altro PG di extremely non c'è tanta roba. Quindi non so. Comunque funzioneggia. Linka con Kid Buu in modo da aumentarsi di molto le stats. E sia farmabile. Può far danni. Debuffa che è la cosa più importante. Ha un po' di healing. Ha un po' di healing. E scegliete voi come buildarlo. Andaci di additional evasione per far debuffare il più possibile. Oppure di critico. Evasione se volete far più danno. Io consiglio l'additional. Però nella versione android forse è meglio la critica. Bisognerà un attimino provarla. Io nella versione android non ce l'ho completa. Quindi non posso neanche provarla. Mi manca il PG principale per provarla tutta. Come mi manca anche un PG in questa versione che vedete. Però perde molto ma rimane un PG giocabile. Che vale la pena se avete Kid Buu e volete portare il team Inti di prendere con un eventuale stone blue. Passiamo e passiamo adesso ai PG secondari. Primo bivio che avete quando formate il team tra versione DPS pura e debuffer e versione androidi è questa postazione. Io sia perché non ho C17L. Sia perché ho Baby Vegeta comunque Ability 1. Anche se scazzai totalmente a buildarlo. Ho messo qua come team principale. Anche per i calcoli che ho fatto. Baby Vegeta. Baby Vegeta funziona già. Non è chissà cosa. Ha qualche link carino di chi con alcuni personaggi. Ha link di danno. Ottimo. Fa qualche danno anche lui. Nel caso uscisse prima o poi un Baby Vegeta che gli aumenta l'SA sarebbe anche meglio. Può debbaffare un attacco avversario. Ha la possibilità di fare qualche danno. Può diventare un grande scimmio facendovi resistere un po' di più. Non è malvagio. Però ha anche molti difetti. Quale sia non farmabile. Necessità di Ability Chart. Lui esattamente come Bueni. Io lo preferisco. Quindi Chad 11 evasione. Non vedo senso di mettergli il critico ma l'ho messo come possibilità. Potrebbe sempre funzionare. Ma non è un consiglio che vi do. Nel caso non vogliate giocare Baby Vegeta. Avete la vostra possibilità di giocare Hell Fighter 17. PG che fa più danno di Baby Vegeta. Almeno sulla carta Tour. E ha numerosi supporter a sua disposizione. Non è affatto male. Può fare il suo sporco lavoro. Quindi a vostra discrezione. Io preferisco Baby Vegeta sia perché ce l'ho anche con Ability. Ma anche Hell Fighter non è da buttare. Quindi tenetelo d'occhio nel caso lo abbiate. E provate entrambe le versioni. Naturalmente nel caso manchi Buan. È sottinteso che in una turnazione avrete Hell Fighter. In una turnazione probabilmente avrete il nostro carruppo di Vegeta. Però pullare su Git Buu senza Buan è abbastanza... ...na cavolata. Siamo sinceri. E passiamo al buffer principale. Secondo dei PG che mi manca. Ovvero Vegeta Scouter Int. Grandissimo PG. Debuffa. Ottimi link. No aspetta. Best debuffer. Ho scazzato anche a scrivere. Best buffer. Un attimo solo che mi sono accorto dell'errore. Buffa. Buoni link. Davvero un PG tutto tondo. Vitale in questo team. I suoi più 3 chi non fanno affatto schifo. Può essere il PG che vi permette di far girare questo team. La sua mancanza ragazzi si sentirà tantissimo. Ve lo dico immediatamente. La sua mancanza si sentirà. Ma non per questo il team è inutile senza. È giocabile preferibilmente con Ability S alta tutti quanti. Lui ASA farmabile. È buono. Cercate di prenderlo. Se volete buildarlo additional barra critico e evasione. Di sicuro non è un PG che vi pentirete di aver pullato. Se pullata nella sua batch colore. Passiamo quindi agli altri due buffer. Che potranno essere sostituiti con altri PG per la versione Android. Ma nel caso naturalmente non abbiate Vegeta come me. Metterete uno di questi altri PG al posto di Vegeta stesso. Il primo, nonché il mio preferito, è Metal Cooler. Metal Cooler a SSR faceva schifo. Faceva schifo schifo schifo. A tour è diventato un PG che ti fa venire voglia di spendere quelle cavole di sette medaglie Battlefield. Migliore dei PG Battlefield non è l'R. In mio modesto parere lo reputo anche meglio di Genio l'R per il suo buff. Può far davvero tanta roba. Buff del 30% e più due ki. I più due ki possono essere però un problema. Ve lo dico, debuffa ragazzi, debuffa anche lui. Anche se la difesa. Ed è un PG da non sottovalutare. È obbligatorio? Tecnicamente sì. In pratica no. In quanto nella versione Android si tende a giocare solo un buffer ma si giocano ben due Orb Manipulator. Infatti il nostro caro Metal Cooler può essere sostituito da uno tra C13 Int Tour o C18 Int Tour. PG che legano benissimo con il Fighter 17 e benché non diano boost alle stats e chi danno degli Orb Manipulator. Che possono aiutare Buon a avere più danno ai recovery e aiutare anche qualsiasi vostro PG a lanciare la specie. Nel caso però non abbiate lui o Vegeta e non vogliate fare la versione Android, Genemba Int è di sicuro il PG che fa per voi. Ottimo sostituto a qualsiasi buffer di questo team e permette di tankare non poco. Oltre al fatto che il suo linkaggio con Baby Vegeta vi ricaricherà anche di abbastanza di HP. Quindi tenetelo d'occhio perché di sicuro non è totalmente fuori dal meta ancora questo Genemba. E infine ragazzi ultimo dei PG, Tarles. Mi manca anche lui ma ne sento meno la mancanza perché al suo opposto gioco Baby Trunks, quello free to play, quindi riesco a non sentirlo troppo. E' comunque un ottimo PG, da un ottimo boost alle stats e chi con condizioni dovete avere un certo THP ma non è difficilissimo con questo team stare sempre HP alti tra Kid Buon e altro. Farete molte perfect run seppur non avrete quel senso di invincibilità che avevate nello scorso meta. Come cooler poi sostituito dai due Android o da Genemba. E non dimentichiamo c'è anche un buon 5% di stannare che in molti eventi potrebbe aiutarvi non poco a farvi le perfect run. Promosso spero prima o poi di trovarlo, ormai i PG vecchi che mi mancano che voi ci sono lui e Goku Kid. Sperem ragazzi, sperem. Passiamo quindi alle turnazioni. Come ci si deve muovere con questo team? L'ho già spiegato, le turnazioni sono turnazioni o di healing o di DPS e debuff. Abbiamo quindi Kid Buon come turnazione principale con la maggior parte dei danni. Attaccherete principalmente coloro due cercando di debuffare con Buon e curarvi con Kid Buon. Kid Buon non lancerà sempre la special se non avete il team completo, soppiatelo. Quindi preparatevi a sclerare parecchio. E la seconda avrete Kid Buon Hellfighter, Kid Buon Baby Vegeta. In entrambi i casi non lancerà spesso la special Kid Buon. Non la lanceranno né Hellfighter né Baby salvo con dei bei booster in campo. E beh, che vi posso dire? Comunque farete qualcosa. Gli altri tre buffer staranno in rotazione per regalare quei 2-3 ki vitali a questo team. Nella versione Android regaleranno più ki a Hellfighter, ma daranno anche abbastanza orbita per mettervi di lanciare le vostre special. Rotazione abbastanza basilare. Nel caso abbiate Janemba potrebbe essere il caso a volte, soprattutto contro nemici che magari non riuscite a debuffare perché non avete abbastanza ki, di mettere in rotazione al posto di Baby Vegeta Janemba stesso. Dipenderà da voi e dal nemico contro che combattete. E infine ragazzi, vediamo l'ultima cosa. Ovvero le valutazioni. L'Extreme Int in questo meta è un T1.5. T1.5 di categoria bassa ragazzi. Possiamo dividere attualmente i 10 team, escludiamo ancora Extreme Super che avremo a Ferragosto, ma i 10 team principali del meta in Divini, Top Tier, Middle Tier e Love Tier. I Love Tier sono i T1.5 scarsi. Abbiamo quindi Super Tech, Extreme Int e il prossimo che analizzeremo, Extreme Agile. Che però ragazzi, mi dico, Extreme Agile è quello davvero che manca poco per il salto di qualità. Questo team manca di tante cose. Ha poca difesa ma ha buoni supporti. Per difesa si intende proprio la difesa. Benché sia un team che possa arrivare a fare perfect run facilmente, avete buone recovery e tutto, ricordatevi che è comunque molto carente salvo un team completo di sustain. Ha un set di supporto nel caso di team completo ma è un team che ha bisogno per forza di questi PG. O avete questi PG con queste combo o non gira. È davvero preoccupante la situazione di questo team perché completo è un team divertente da usare che vi permette di fare perfect run a IOSA. Non completo è un incubo anche solo da essere utilizzato. Quindi pullate vostro rischio e pericolo su Kittiboo perché potrebbe essere davvero un incubo. Quindi vi ringrazio per aver seguito, vi auguro una buona giornata. Ringraziamo il sumo Priscilla che stamattina mi ha fatto trovare, oggi pomeriggio in realtà, Broly LR in una multi. Si ha lodato quando scendo, quando scendo, ti do qualche carotina. Broly coniglietto del papà. Postazione un po' più professionale. Era anche ora che lo facessi dopo quasi due anni di canale. E fatemi sapere voi cosa ne pensate. Vi invito inoltre a guardare anche i video su Final Fantasy Brawl Exus, anche se un buon quasi 10% di voi li vede, e provarlo come gioco. Non ha niente da negare Dokkan, anzi, è anche di categoria superiore su molte cose. E noi ci vediamo più tardi, se Dio me la manda buona e ci riesco e ho tempo, con un nuovo Dokkan Basing in collaborazione col caro Rikis Prezza. Quindi alla prossima. Che Pashira sia con voi. E al prossimo video, ragazzi.